Sei? Capitano, Modena in semifinale, l'abbiamo detto anche con Erwin e con Tubertini, insomma, soltanto dieci giorni fa, una settimana fa, insomma, c'era un altro clima, sta cambiando qualcosa? Penso che sia visto, è Modena che volevamo, che volevate, vederla così, l'abbiamo fatto, noi abbiamo creduto, anche se non sembrava da fuori, abbiamo creduto sempre, abbiamo lavorato e questi sono i primi frutti del lavoro. Cosa sta cambiando tecnicamente ma anche nelle vostre teste? Stiamo lavorando un pochino diverso, però ci vuole tempo di trasmettere quel lavoro nel gioco, adesso nelle ultime due partite l'abbiamo fatto e penso che è notevole, si vede, poi nella testa è playoff, vogliamo andare avanti, non si può pensare di tante cose, c'è da giocare e basta. In semifinale c'è Civitanova, la squadra che è arrivata prima al termine della regular season, la squadra che in questo momento sembra la squadra in assoluto da battere. Ecco, Modena, in questa semifinale come va? Da sfidante probabilmente, però con una fiducia e una consapevolezza che sta crescendo? Sì, secondo me è giusto, parola giustissima, sfidante, perché vai a giocare con una lube che è stata fortissima nel regular season, che è arrivata prima, che sta giocando molto bene, però nell'ultima gara che abbiamo giocato a casa di loro abbiamo giocato anche noi discretamente bene e abbiamo perso 3-1, quindi io sono fiducioso, adesso il gioco è cresciuto, sta crescendo e sarà tutto aperto, è una semifinale, parte più bella della stagione, quindi c'è solo da giocare e di vivere questi momenti belli. Sono cambiati un po' anche i vostri sguardi, ridete un pochino di più, esultate un pochino di più, insomma, nello spogliatoio è chiaro che le sconfitte portano una vita difficile per le squadre sportive, sta cambiando qualcosa anche tra di voi nella grinta, nella voglia, nel rapporto? È sempre una cosa che io dicevo, che abbiamo bisogno di ritrovare solo questa cosa, perché dopo ti viene tutto più facile da fare, sia allenamenti che partite, sia quando sei in difficoltà di tornare, con un po' di sorriso, di festeggiamento di punti, ci si fa molto più facile, quindi avevamo cercato di fare questo e penso che è una cosa molto importante che si già vede questo.